Era già finito in manette per ben due volte, sempre per maltrattamenti, ma la sua ossessione morbosa nei confronti della moglie non si era placata. Cercava ancora vendetta, compedinamenti, minacce, anche di morte ed infine lesioni. Un vero e proprio incubo, quello vissuto per anni da una 35enne di origine albanesima residente ad Arezzo, che si è concluso fortunatamente con un arresto, il terzo. Tutto era cominciato nel 2015, quando lo stalker, un 39enne anche lui albanese, era stato condannato per ingiurie, minacce e lesioni nei confronti della donna, appena poi sospesa. Nel 2016 il 39enne aveva ricevuto dalla questura un ammonimento e poi, a seguito di nuovi episodi di violenza, una nuova condanna a sei mesi di reclusione scontati in carcere a Torino. Ma una volta uscito per buona condotta, era tornato ad Arezzo ed aveva ricominciato a perseguitare la moglie. Lo scorso inverno per lui erano scattate di nuovo le manette, ma dopo qualche mese di carcere era riuscito ad ottenere i domiciliari. Per la 35enne era così iniziato un nuovo calvario, ma in questo caso, nelle mire dello stalker, era finito anche il suo nuovo compagno. La coppia si è così presentata alla squadra mobile della questura di Arezzo, che grazie al tempestivo raccordo con la Procura della Repubblica, ha arrestato per la terza volta il 39enne. Rimane infatti altissima l'attenzione su casi di stalking, maltrattamenti e violenza familiare della Polizia di Stato, che da anni sta portando avanti la campagna informativa Questo non è amore e che ad Arezzo ha stretto una forte collaborazione con l'ospedale San Donato e con i centri antiviolenza. L'appello della Polizia di Stato è sempre quello di denunciare. Molte delle persone con le quali ci confrontiamo non sanno in realtà quali sono gli strumenti giuridici che hanno a disposizione e anche così gli strumenti assistenziali di cui possono disporre anche tramite noi, per cui noi con questa iniziativa vogliamo promuovere sia la nostra attività ma anche quella dell'associazionismo tipo pronto donna che sicuramente con un'altra specificità riesce ad arginare questo tipo di fenomeni.